Ti sei mai chiesto cosa succede quando la vita di un personaggio televisivo prende una svolta drammatica? Scopriamolo insieme. In questo avvincente video, esploreremo le intense vicende della vita di Kea Moley, uno dei piccoli protagonista della celebre serie turca, Terra Amara, attraverso drammatiche svolte e tragiche perdite che cambieranno il corso della sua storia. Immergiamoci nel mondo avvincente di Terra Amara, dove ogni momento è un capitolo carico di emozioni intense. Una storia che ha catturato il cuore degli spettatori. Un viaggio travolgente che vi terrà incollati allo schermo fino all'ultima scena. Mentre le dolci melodie delle conversazioni romantiche risuonavano nell'aria, Mujgan prese una decisione che avrebbe cambiato irrevocabilmente il corso delle loro vite. Accettò un prestigioso incarico di primario in uno degli ospedali più all'avanguardia di Istanbul. La sua scelta non fu soltanto una transizione professionale, ma un passo audace verso un nuovo capitolo della sua esistenza. Prima di immergersi in questa nuova avventura, si confrontò con Fikkeret, condividendo i suoi dubbi e affidandole il prezioso Keremali, il cui destino era ora legato a quello della metropoli. Con una promessa impregnata di speranza, lasciò il suo piccolo nelle mani amorevoli di Fikkeret e Fekeli, con l'assicurazione di fare ritorno una volta che avesse piantato le sue radici nella vastità di Istanbul. Tuttavia, il fato aveva altri piani. L'aereo che trasportava Mujgan subì un incidente catastrofico, sprofondando nelle profondità marine con una violenza che spezzò ogni speranza di sopravvivenza. Kukurova, la comunità già segnata da tragedie precedenti, dovette confrontarsi con la realtà di una perdita ancora più dolorosa. Fikkeret e Fekeli, devastati dalla tragedia, si trovarono uniti non solo nel dolore ma anche nell'onere di crescere Keremali. L'impegno di Fikkeret e Fekeli non era solo un dovere, ma un atto d'amore. Nell'ombra della perdita, si impegnarono a offrire a Keremali tutto l'affetto e la protezione che i suoi genitori avrebbero desiderato per lui. La promessa di crescere il giovane Keremali si trasformò in un faro di speranza nella notte buia della loro tristezza, un impegno che li avrebbe guidati attraverso le sfide del destino. Nel cuore di terra amara, un'ombra di tragedia continuava a pesare, gettando ulteriore dolore su una comunità già sconvolta dai recenti eventi. Pochi giorni dopo la devastante perdita di Mujgan, la situazione sembrava precipitare ulteriormente. Keremali, afflitto dalla mancanza della madre, iniziò a mostrare segni inquietanti, perse l'appetito, diventò letargico. Nazire, con il suo occhio attento e materno, rilevò i primi segni di allarme, una febbre bruciante e un generale malessere nel piccolo. Le cose si fecero ancora più serie quando Keremali perse conoscenza e fu trasportato d'urgenza in ospedale. Nel cuore pulsante di un ospedale, un vorticoso balletto di medici si svolge attorno al minuscolo corpo di Keremali. Le luci accecanti della sala operatoria rivelano il loro impegno instancabile mentre cercano freneticamente di stabilizzare il piccolo paziente. La tensione nell'aria è palpabile, come se ogni secondo avesse un peso insostenibile. Il monitor cardiaco emette un suono ossessivo, segnando il ritmo incerto della vita di Keremali. Gli sguardi preoccupati e concentrati degli operatori sanitari si intrecciano, mentre la speranza e la paura danzano sulle linee increspate dei loro volti. L'odore di disinfettante e l'eco dei passi affrettati nel corridoio creano un sottofondo inquietante, aggiungendo un ulteriore strato di tensione all'atmosfera già carica. Nella sala operatoria, l'attenzione si concentra su Keremali. Il suo corpo fragile è il campo di battaglia in cui la lotta per la vita si svolge in silenzioso tumulto. I medici, con le mani abili e il cuore appesantito, eseguono una serie di test e analisi, cercando risposte in un labirinto di sintomi. Ogni movimento, ogni espressione, è permeato dalla consapevolezza che ogni decisione può significare la differenza tra la speranza e la disperazione. La diagnosi scivola giù come una fredda cascata, meningite. L'annuncio risona nella sala operatoria come un colpo di tuono, spezzando il silenzio carico di tensione. Keremali, nel suo mondo fragile, è ora intrappolato in una lotta disperata per la vita. La speranza si scontra con la disperazione e il suo destino pende su un filo sottile, oscillando tra la fragilità della vita e la crudezza della malattia. Il coraggio dei medici si intreccia con la fragilità dell'infanzia, creando un quadro emotivo che tocca le corde più profonde. Ogni sguardo, ogni gesto, è un capitolo di questa drammatica narrazione. La sala operatoria diventa un teatro in cui si svolge una lotta epica, e il piccolo Keremali è il protagonista di una storia in cui ogni battito cardiaco è un capitolo carico di speranza e paura. Prima di continuare con il resto del video, vogliamo conoscere la tua opinione. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora, riprendiamo con il video. Ali Ramet e Fikret, profondamente segnati dalla recente tragedia della perdita di Mujgan, lottano silenziosamente per mantenere la calma. La realtà della situazione, come un crudele fulmine, li colpisce con una forza devastante. Nonostante la loro determinazione a fare il massimo per salvare il giovane Keremali, si trovano a fronteggiare la crudele incertezza del destino. I medici, con il peso della responsabilità, consigliano loro di armarsi di pazienza, sottolineando che l'unico cammino possibile è attendere e confidare nelle terapie somministrate con speranza. Nel mentre, il cuore di Zuleia è straziato da una tormenta emotiva. Il pensiero del figlio del suo caro Yilmaz, vulnerabile in questa situazione, aggiunge ulteriore tensione alla trama già carica di dramma. Il dolore e la preoccupazione si riflettono nei suoi occhi, creando una melodia silenziosa di angoscia. A voi, spettatori fedeli, rivolgiamo una domanda carica di significato. Cosa immaginate nel futuro di Keremali? Sarà in grado di superare questa prova titanica? E se sì, quali saranno le ripercussioni profonde di un tale trauma? Le vostre previsioni e riflessioni sono attese con trepidazione, come una luce nella notte buia della narrativa che si sviluppa. Se desideri rimanere connesso, con le ultime novità e non perdere nemmeno un episodio delle nostre analisi approfondite, ti invitiamo calorosamente a iscriverti al nostro canale. La nostra community è un luogo dove condividiamo passioni, commenti e teorie. Non perdere l'opportunità di far parte di questa esperienza unica. Clicca sul pulsante iscriviti e fai parte della nostra meravigliosa famiglia di appassionati. Ti aspettiamo nel prossimo capitolo.